Guarda un po' ah, ma, cioè io non ho capito, hanno lanciato questo nuovo aggiornamento e guardate un po' che casino ah, mamma mia, tocca sempre a noi a risolvere questi errori. Ora qua stavo giocando e guardate un po' cosa è successo, mi si è crashato tutto, tutto, va bene? Mi si è crashato tutto. E vabbè, risolviamo questo errore. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, oggi con nuovi problemi su Call of Duty Warzone, con il rilascio del nuovo aggiornamento nel 2022, abbiamo ancora questi problemi. E come risolverli? Eh, dobbiamo per forza risolverli noi, perché i sviluppatori non fanno altro che arricchirsi con i nostri soldi, però non fanno niente per risolvere questi bug, glitch, crash e altre cose così. E quindi, innanzitutto, per risolvere il danno del crash, le probabilità sono alte, ma dico alte, quando giochi a schermo intero. Esatto. Se tu entri in una casa e cominci a fare una sparatoria, lanci granate, a me è successo, a me è crashato il gioco, perché giocavo a schermo intero con il, se lo trovo, sta da qualche parte, il Ray Tracing DirectX, l'avevo anche attivato e guardate un po', si è presa tutta la VRAM della mia scheda video. Quindi, se giocate con il Ray Tracing DirectX e se non avete il Ray Tracing installato sulla vostra scheda video, state certi che dovete per forza disattivarlo, perché veramente potete anche godervi Call of Duty bello bello, ma vi laggerà a morte e vi crasherà. Quindi, ho giocate con una risoluzione bassissima, con, un momento, applica, schermo intero, senza bordi. Ok, quindi vado un attimo su qualità. L'antellese in questo qua dobbiamo tenerlo a T2x, se no non vediamo niente da lontano, perché se lo metti fino a, no, vedi i personaggi, le cose, tutte sgradite. Ecco, come potete vedere, la differenza è qua a terra, un po' sgradito, ruvido. E qua, invece, bello, fluido, liscio, ok, quindi io te lo tengo a 2x. Il Ray Tracing DirectX lo tengo a, no, e quindi mi raccomando, disattivatene anche la luce e le ombre, perché veramente non vi servono. Anche se disattivate le ombre, quindi volete guardare l'ombra del nemico da qualche parte dietro la porta, potete lo stesso mettere su no, tanto l'ombra esce lo stesso. Ve lo garantisco, l'ombra esce lo stesso. E questo era il primo metodo per risolvere il crash. Quindi le probabilità erano alte se giocavi con grafica altissima, con una scheda video, senza offesa, penosa. Io ho una 1060 Super e più o meno riesco a reggerlo a 60-65 fps con grafica alta e quindi ti consiglio di fare questa cosa qua. Ora, passiamo al secondo metodo. Come secondo metodo, ragazzi, dobbiamo andare sul Blizzard, andare su Impostazione, entrare nella sua cartella, quindi Mostra e Esplora i source. E cancellare tutta sta roba che non ci serve, non vi preoccupate, sono file che ogni volta che aprite il gioco, si carica il gioco, escono fuori questi nuovi file. Quindi metto del, cancella, cancella anche nel cestino, svuota 54 elementi e facciamo un analizza e ripara. Voi lo fate, aspettate 8-10 minuti, perché in passato pure l'ho fatto molte volte, io ve lo consiglio di farlo una volta a settimana, ok? Una volta a settimana o tutti i giorni, se no vi scocciate di aprirlo e di giocarci. Poi, come terzo metodo, andiamo sulla nostra connessione, quindi andiamo su Impostazioni di Rete e Internet. Andiamo, Impostazioni di Rete avanzate, più opzioni per la scheda di rete, basta che vi esce questa scheda. Andiamo su Proprietà. Scendiamo qui, IPv4, Proprietà. E fate come ho fatto io, questi sono anche problemi riguardo ai server DNS, il fatto anche della gare dentro i server di Call of Duty, nelle partite. Quindi vi consiglio di mettere 88888844 e fate ok. Quindi utilizza i seguenti indirizzi server DNS, ok? Molto semplice. Allora, con questi tre metodi, io spero tanto di esservi stato d'aiuto, perché veramente, se gli sviluppatori non fanno niente, perché ogni volta che rilasciano qualche aggiornamento succede questo, è un grosso, dico, un grosso problema. Quindi, che vi posso dire, ragazzi? Grazie a tutti per questa visione. Spero tanto, sì, come ho detto prima, quindi di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo, di iscrivervi al canale. Quindi noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao e grazie. Ciao e grazie.